Siccome è rotante l'hanno messa dappertutto, è accoppiata, è tipico della coppia del palladio, quelle in granito verde dell'artare maggiore, quella è la madonnina tutta nera dell'Oreto, con tutta la raggera, con gli aggini e la portano in trono, lì c'è stata la statua nel mezzo busto del Papa Pio Nonno Massai Veretti perché qui ci hanno portato un pezzo di uno sicino suo, vi ricordate che l'abbiamo visto sepolto quando siamo andati a San Lorenzo, fuori del muro al verano, lì è sepolto il pionolo, lì in fondo se l'ossa stanno un pezzo di qua e un pezzo di riano, che c'è stanno? Magari un didino, hai capito? Ma un banco, un pezzettino Aspetta devo vedere, dove sta la pietà?